capitolo tredicesimo roma quando cavagna uscì dalla stanza del vescovo curvo in mezzo alle guardie e barcollante monsignor carlo bascapè rimase ancora qualche minuto lì in piedi fissare il vuoto con le labbra che si aprivano e si muovevano senza emettere suono poi si prese la testa tra le mani e andò a sedersi così ecco ora finalmente sapeva tutto ora capiva spostò il crocefisso d'argento che teneva al centro del tavolo e mise al posto di quello la maschera funeraria del suo amico e maestro carlo borromeo come faceva ogni volta che si sentiva angosciato o che doveva prendere una decisione importante cosa avrebbe fatto al suo posto carlo borromeo ne sfiorò i lineamenti con le dita l'alta fronte spazioso il grande naso che era stato l'elemento più caratteristico di quel viso affilato dal profilo d'uccello la maschera era di cera ed era stata eseguita subito dopo la morte dell'arcivescovo di milano perché poi se ne facesse un busto in bronzo ma ciò avrebbe significato fondere la cera e bascapè invece aveva voluto conservarla come ricordo dell'amico nel metallo diceva tutti i visi diventano uguali impassibili duri disumani soltanto la cera con la sua morbidezza e il suo calore in tutto simili alla morbidezza e al calore della carne gli avrebbe restituito qualcosa della vita e dell'anima che si erano espresse in quel viso amato la smandone i lineamenti del resto si chiedeva il vescovo cos'altro è la materia di cui è fatto l'uomo se non c'era nelle mani di dio dopo qualche indugio si rispose qualunque cosa avesse fatto carlo borromeo in quelle stesse circostanze si disse lui ora non avrebbe potuto rifarla i tempi erano diversi le persone erano diverse il secolo era diverso e se possibile peggiore rispetto a quello già così empio e dedito ad ogni genere di vizi contro cui aveva combattuto il beato carlo la posta in gioco continuava ad alzarsi si sarebbe alzata ancora di più a quante prove ancora e quanto terribili dio avrebbe sottoposto i suoi servi prima di far trionfare la sua causa era una guerra pensò il vescovo bascapè una vera guerra quella che si stava combattendo da più di vent'anni ormai all'interno della chiesa e per la chiesa e seppure già si sapeva con certezza che alla fine sarebbe stato dio a vincerla non altrettanto certa era la vittoria di chi combatteva in quel momento in prima linea perché la chiesa di cristo e degli apostoli tornasse ad elevarsi sopra le miserie del mondo tutto al contrario si poteva soccombere lui bascapè stava soccombendo e il nemico era ovunque fuori e dentro la chiesa a novara e a roma tornò ad alzarsi passeggiò per la stanza ora sapeva il racconto del cavagna pur inframmezzato di gemiti singhiozzi e improvvisi tuffi verso il pavimento per baciare i piedi del vescovo era stato chiarissimo ne del resto infatti erano complicati ciò che ne veniva fuori ripulito e corretto era la variante secentesca di una novella del boccaccio quella dello stupido calandrino che si farà girare da bruno e buffalmacco i due più astuti compari nel caso del cavagna i compari erano stati un giovanangelo santini pittore romano e un prete novarese residente a roma tale flaminio casella la storia poi si era sviluppata così che il casella aveva fatto conoscere il santini al cavagna e che questo santini artista per ciò che se ne sapeva meno che mediocre ma ben visto dal cardinale bellarmino e bene introdotto a palazzo aveva fatto balenare davanti agli occhi dell'oca bianca più che burro prospettive mirabolanti e fino a quel momento impensate sarebbe stato disposto aveva chiesto santini al povero cavagna a calarsi nelle catacombe dette di priscilla per andare a prendersi lui stesso i corpi santi se sì la cosa si poteva fare visto che lui cavagna e il vescovo di novara ci tenevano tanto ad avere quei corpi era giusto darglieli senza farglieli pagare troppo e nel modo più semplice sulle prime cavagna aveva esitato ad accettare quell'offerta soprattutto stando al suo racconto lo spaventava la prospettiva di dover scendere lui stesso sottoterra alla sua età e con la sua costituzione fisica poi si era lasciato persuadere con poca fatica e pochi soldi gli aveva assicurato santini avrebbe compiuto un'impresa memorabile ci sarebbe guadagnato la riconoscenza del suo vescovo e di tutta la chiesa novarese sarebbe diventato un grande benefattore della sua diocesi amato e ricordato nei secoli a venire a che servivano gli indugi e s'aspettava lui santini era in possesso di uno speciale lascia passare firmato personalmente dal cardinale prefetto alle catacombe e gli consentiva di entrare negli scadi e copiare le pitture e di trattenervisi tutto il tempo necessario all'esercizio della sua arte ci sarebbe andato in compagnia del cavagna e perciò non gli avrebbe chiesto niente nemmeno un quattrino gli avrebbe fatto un favore come amico a titolo personale e si sa che in queste cose d'amicizia i soldi non c'entrano naturalmente una volta sotto si sarebbero dovuti sborsare un po di scudi per comprare il silenzio e la collaborazione di una guida e di tre o quattro tombaroli ciò era necessario anzi indispensabile perché nelle catacombe nessuno può muoversi da solo e meno che mai nella parte inesplorata dove ci sono i corpi si sarebbe comunque trattato assicurava il pittore di una spesa più che ragionevole addirittura irrisoria si confrontata con il valore di mercato di quei corpi e di quelle reliquie che cavagna avrebbe trovato laggiù l'oca bianca più che burro aveva abboccato erano così iniziate quelle discese nell'ignoto per cui il povero cavagna imbracato come si imbracano gli asini per imbarcarli e per sbarcarli dalle navi veniva calato a mezzo d'argani e carrucole dentro pozzi profondissimi in fondo ai quali trovava ciò che il santini gli aveva messo il giorno precedente appositamente per lui e passando per altri accessi ben più agevoli dei suoi ampolle piene di preziosissimi sangui resti di santi sbranati dalle fiere con i nomi di ciascun martire incisi diligentemente nel tufo corpi interi da riempircene un carro e accanto ai corpi tante e minori reliquie di sante schegge santi anelli santi frammenti di vesti e così via da bastare al fabbisogno d'una diocesi e forse anche da avanzarne dopo l'esito trionfale di quelle prime spedizioni però le cose erano un po cambiate il perfido santini prevenire eventuali dubbi del cavagna trovando la faccenda troppo facile avrebbe potuto insospettirsi e forse anche per divertirsi alle sue spalle aveva incominciato a sfiancare la sua vittima con una serie di esplorazioni a vuoto era stata finta dagli operai una rottura della fune per cui loca bianca più che burro dopo essere precipitata per alcuni metri era rimasta un paio d'ore in fondo ad un pozzo al freddo al buio e senza comunicare con anima viva quando infine i suoi torturatori si erano decisi a tirarlo fuori il povero cavagna aveva dovuto essere riportato a casa in barella perché non riusciva più a reggersi in nessun modo nemmeno seduto dentro una lettiga era rimasto ammalato col munite per oltre un mese durante quel tempo i due compari cioè il santini e il casella avevano perfezionato l'inganno facendogli venire al capezzale un falso notaio che aveva inventariato e autenticato tutte le reliquie e poi gli avevano procurato un'autorizzazione anch'essa falsa per far uscire le reliquie da roma era stato affittato un carro da trasporto a tre assi per ogni tipo di strada un tir dell'epoca e mentre ormai mezza roma tutta roma la rideva apertamente nella dabbenagine di questo monsignore di campagna che camminava e pensava come un'oca e credeva di poter scorrazzare nelle catacombe senza attirare l'attenzione dei guardiani e del prefetto alle stesse e del bargello era arrivato l'ordine da palazzo di lasciar correre perché perché si chiese il vescovo tormentando con le dita il crocefisso che portava sul petto cavagna non era stato arrestato alle porte di roma visto che i suoi documenti erano falsi e che si sapeva perfino chi li aveva fatti perché il santini e il casella erano liberi e nessuno li accusava perché infine gli occhi a questo punto gli si riempirono di lacrime dio aveva voluto che fosse eletto suo rappresentante in terra l'uomo duro insensibile dal cuore freddo più del sasso che era poi diventato papa con il nome di clemente ottavo che senso aveva tutto questo perché accadevano tali mostruosità come gesù cristo sulla croce implorò il padre dio dio mio perché mi hai abbandonato andò davanti alla finestra l'aprì appoggiò con le mani al davanzale di pietra guardò i poveri tetti di novara i suoi piccoli campanili il suo castello e oltre la mole del castello i prati i boschi orizzonte velato di foschie quel paesaggio così piatto e così sfumato riusciva sempre a incupire i pensieri del vescovo ma quel giorno d'aprile dell'anno del signore 1603 pascapè non prestava attenzione a ciò che vedeva dalla finestra pensava al papa ma sì lui l'aveva conosciuto prima che salisse sul trono di san pietro il cardinale ippolito aldo brandini nel 1590 a roma aveva avuto occasione di incontrarsi e anche per sua disgrazia di scontrarsi con quell'uomo altezzoso autoritario dai modi bruschi e sbrigativi che considerava i consiglieri milanesi dell'allora papa gregorio quattordicesimo alla stregua di eretici e non tollerava di sentir parlare di riforma del clero di rinascita della fede della chiesa di chiesa santa bestemmie la chiesa diceva il cardinale aldo brandini era santa così come s'era strutturata nei secoli e indiscutibile parlare di migliorarla e di adattarla ai tempi significava collocarsi di fatto dalla parte dei riformatori e degli eretici e poi anche aggiungeva in tono perentorio sulla spinta di false interpretazioni e di false suggestioni del concilio di trento si erano verificati fervori malsani che dovevano essere disciplinati e castigati perché non producessero misticismi isterici esmani e di santità vacque e teatrali certi personaggi come il defunto arcivescovo di milano carlo borromeo avevano fatto danno alla chiesa quasi quanto lutero e melantone ma un giorno che questo genere di discorsi s'era tenuto alla presenza del papa vascapera insorto auguro alla signoria vostra aveva detto al cardinale aldo brandini e il suo viso appariva pallido per l'ira la voce a tratti remava di poter progredire nella vera santità quanto vi progredì ai giorni suoi il cardinale di santa prassede carlo borromeo il cui nome del tutto erroneamente è stato da vos signoria accostato a quelli dei principi degli eresi archi e dei nemici della chiesa mentre invece carlo fu il principe dei pastori e dei predicatori della vera fede il cardinale lì per lì non diede risposta ma quando dopo poco gregorio quattordicesimo morì e lui stesso ippolito aldo brandini venne eletto papa saldò il conto col bascapè lo mandò a novara a invischiarsi nei massimi problemi d'una minima diocesi e pazienza ancora se tutto fosse finito in quel modo si sarebbe contentato bascapè esser lasciato lì dove era ai margini del mondo a lavorare come semplice operaio nella vigna del signore secondo dicono i vangeli dimenticato da roma e invece no anno dopo anno stagione dopo stagione quasi non era passato giorno da quando bascapè stava a novara senza che gli arrivasse da palazzo un segno tangibile che a roma ancora si pensava a lui qualche minima cattiveria qualche sgarbo qualche inciampo sul suo cammino ma questo affare delle reliquie del cavagna era più che una cattiveria era un'infamia si voleva astreditarlo agli occhi dei suoi stessi fedeli coprirlo di ridicolo chissà che chiacchiere se ne stanno facendo in questi giorni disse ad alta voce il vescovo bascapè a palazzo e fuori di palazzo in tutta roma e a milano chissà cosa è stato riferito al cardinale federigo borromeo e cosa dice la gente di novara cosa pensa il clero sentì freddo chiuse la finestra forse aveva la febbre si toccò la fronte torno al tavolo da dove si era mosso aprì un cassetto mi tirò fuori una boccettina di metallo che conteneva dei sali aspirò a lungo prima con una narice e poi con l'altra ripetendo l'operazione altre due volte rimise la boccettina nel cassetto si sedette disse novara già in quella nuda parola e nel modo come bascapè la pronunciava c'era tutto il tormento di una vita la condanna e il riscatto l'abbandono in dio avesse potuto scegliere il proprio destino bascapè certo non sarebbe venuto a novara nemmeno per farvisi seppellire e nemmeno per un giorno ma poiché dio ce l'aveva mandato lui ora amava la sua diocesi con assoluta dedizione di se stesso e con tutte le sue forze soltanto in certi particolari momenti gli sembrava che le sue forze non fossero sufficienti per quel compito immane ripensò a roma disse roma e le rughe della fronte si spianarono gli occhi si dilatarono nel ricordo e nel sogno rivide i ponti il fiume portacastello fuori castel sant'angelo i banchi presso il tevere la rotonda le piazze rivide la luce di roma l'immensità di roma le rovine di roma il paesaggio di roma e riprovò quella strana suggestione un amore a prima vista quasi un'attrazione fisica che aveva provato la prima volta che era andato a roma lui milanese pieno di secolari pregiudizi sull'antica capitale dell'impero la città dove nessuno lavora e tutti tramano trafficano vivono alla giornata roma invece lo aveva avvolto nella sua luce rare fatta nella sua storia infinita nei suoi spazi immensi aveva comunicato un piacere di esistere di sentirsi vivo un'eccitazione di pensare e di fare che lui prima dall'ora non aveva mai trovato in nessun luogo era entrata nel sangue e nei pensieri gli aveva sussurrato all'orecchio resta qua un giorno tu sarai il vescovo di roma lui non aveva voluto ascoltare quella voce e sarà sempre comportato come se la voce non esistesse ma lei invece sostinava ad esistere alzò una mano all'altezza del viso la mosse come per scacciare un insetto e voleva invece scacciare quel pensiero che stava là come un tarlo in fondo al legno anche quando lui dormiva o era occupato in altre faccende c'era quel tarlo che rodeva laggiù in fondo di giorno di notte che non si fermava mai a volte lui sera appena addormentato e quel tarlo lo costringeva a risvegliarsi lo faceva balzare sul letto affannato come per una lunga corsa tutto bagnato di sudore allora bascapè si gettava una coperta sulle spalle se era inverno o s'avvolgeva nel lenzuolo se era estate e correva nella cappella del palazzo vescovile si buttava sul pavimento si inghiozzava si batteva il petto dio perdonami dio mio abbi pietà di me non fare caso ai miei pensieri non sono miei è il diavolo che mi sta tentando aiutami a scacciarlo si strinse forte la testa tra le mani le tempie gli pulsavano e lui pensò con terrore che forse sarebbe ritornata l'emicrania il più atroce dei suoi mali novarese i medici ne attribuivano le cause ai vapori delle risaie l'insalubrità del clima al riverbero del monte rosa e dei suoi ghiacciai si diceva fossero i più grandi del mondo prima di venire a novara la scappella non aveva mai sofferto di emicranie e il suo pensiero scivolò indietro nel tempo ritornò a roma laggiù nella casa dei padri barnabiti dove aveva abitato c'era una grande terrazza che si affacciava sui tetti e sulle cupole d'oltre tevere e ci si stava anche d'inverno con il sole a leggere a studiare a conversare da argomenti teologici in primavera poi s'usciva fuori porta dalle mura di campo santo o dal castello si andava all'isola verso il colosseo in una nuvola di fiori di mandorlo di pesco e di ciliegio tra le rovine dei templi e gli orti e le casupole della città morta simili più a rifugi per animali e a dimore umane lì in mezzo a quelle casupole si incontravano ancora quei pastori con le cioce ai piedi e la pecora sulle spalle che assomigliavano al buon pastore delle prime rappresentazioni cristiane e c'era ovunque un venticello che ti stimolava ti eccitava ti faceva star bene e sentir bene il ponentino allungandosi la passeggiata si finiva a desinare in una delle antiche osterie fuori porta dove ci si sedeva attorno a certe tavole lunghe lunghe con tante altre persone che non si conoscevano tra loro monsignori e venditori di terraglie pellegrini e madri badesse vescovi e barrocciai briganti da strada e musicisti e pittori ne stavano tutti insieme senza ombra di imbarazzo o di fastidio a contatto di gomito ci fosse anche capitato un cardinale o il papa in persona l'aiutante dell'oste vi avrebbe sciorinato tra i nomi dei piatti pronti di quel giorno i cazzetti d'angelo e le zinne di sant'orsola i coioni del papa re e la pagliata della news day come aveva già fatto con gli altri clienti e poi ancora alla fine del pranzo gli avrebbe offerto in omaggio un bicchierino di vinsanto o di lagrima cristi da bersi alla facciaccia o agli mortacci di chi eventualmente gli voleva male queste cose pensava bascapè succedevano a roma e non avrebbero potuto succedere in nessun'altra parte del mondo soltanto in quel luogo consacrato dai millenni tutto ciò che c'è stato e ci sarà può convivere con tutto l'alto e il basso il vecchio e il nuovo la religione e l'impietà il fasto e la miseria perfino dio e il diavolo sembravano aver trovato un equilibrio stabile e duraturo in quella città dove tutto è già accaduto e mica una sola volta mille volte così anche in quelle osterie sperdute nella campagna laziale lungo le antiche strade consolari infestate dai briganti dove si poteva finire sgozzati ad ogni passo per pochi giulii ci si sedeva fuori sotto il pergolato e poi arrivavano gli stornellatori con i loro liuti a cantare l'amore gli occhi di matonna la primavera e il ponentino e lì era roma come era roma nella nebbia degli incensi e nel fragore dei canti gregoriani che facevano vibrare le colonne della nuova basilica di san pietro centro del mondo anticamera di dio i pensieri del vescovo bascapè tornarono a incupersi per secoli per millenni pensò il vescovo la città di roma si era beata nella sua luce nella sua storia e suoi aromi da bacchio e di rosmarino e nulla al mondo o quasi nulla sembrava potesse più scandalizzarla ma un giorno era arrivato sulle rive del tevere un prete di campagna grasso e grosso come un'oca e sgraziato fino nel nome cavagna in dialetto novarese significa cesta recipiente di vimini e roma e il papa avevano scoperto che esistevano le reliquie false e che per colmo di scandalo il vescovo di novara ne faceva incetta si alzò riprese a camminare avanti e indietro tormentando il crocefisso con le dita non era giusto pensava che loca bianca più che burro fatisse il carcere per punire cavagna delle sue colpe e soprattutto della sua ingenuità erano sufficienti la vergogna che lui ora provava e il discredito da cui non si sarebbe mai più liberato finché fosse vissuto in quanto poi alle reliquie false quelle non le aveva certamente inventate lui e nemmeno chi l'aveva imbrugliato facevano parte della chiesa di quell'epoca e della vita di roma la città dei papi già negli anni in cui vi aveva abitato bascapè era un mercato immondo e fiorentissimo di corpi santi sante membra sante schegge santi frammenti santi chiodi e d'altrettali turlupinature di cui si passeva e su cui anzi si ingrassava una catena alimentare che andava dal tombarolo al monsignore che gli autenticava per denaro la reliquia dal sensale che procurava i clienti al notaio che stendeva l'atto di vendita su su fino al cardinale prefetto delle catacombe in quel libero mercato nessun pontefice romano nemmeno papa grigorio o papa sisto aveva mai pensato davvero di reprimere perché dava da mangiare a mezza roma il cinismo e l'arguzia della plebe romana riuscivano a immettere reliqui ed eccezione soprattutto per gli stranieri e soprattutto per i francesi che a quell'epoca e per qualche ragione non mai sufficientemente chiarita venivano considerati più stupidi perfino dei milanesi e dei tedeschi degli autentici babbei tutta roma aveva riso d'un san cunno ed una santa mentula nomi latini degli organi genitali rispettivamente femminile e maschile che si diceva fossero stati imbarcati ad ostia per andare in bretagna mentre ancora a bascapè stava a palazzo presso papa gregorio e ne era anche nata un'inchiesta del bargello che però non aveva portato a scoprire illeciti forse in quel caso era davvero trattato di una facezia di dubbio gusto passando di bocca in bocca era poi arricchita di tali e tanti particolari a sembrare un episodio vero ma il fatto stesso che fosse stata presa sul serio e che si fosse indagato lasciava intendere molte cose del resto erano veri e anzi corposi i traffici di quegli anni e di quella roma gli imbrogli gli ammazzamenti gli occultamenti di cadaveri antichi e nuovi tutto ciò che allora accadeva attorno alle catacombe e alle spoglie dei primi martiri della fede cristiana e poi anche gli amori le avventure le rapide fortune una materia che se si fosse potuto scriverne liberamente avrebbe forse prodotto un nuovo genere letterario ed una nuova letteratura con i suoi grandi scrittori e le sue opere immortali mai infatti nella storia millenaria di roma e del mondo intero i morti sotterrati erano stati più vivi che in quei primi anni del diciassettesimo secolo e mai avevano intrecciato più strettamente le loro vicende con quelle dei vivi c'era sul tavolo un campanellino d'argento e bascapè lo prese lo scosse due o tre volte si aprì una porta entrò un preticello dai capelli rossi con le mani unite sul petto si inchinò date ordini da basso gli disse bascapè che monsignor cavagna venga rimesso in libertà e che se ne torni al suo paese a momo o dove ha la casa e che non si muova da lì quando questa faccenda delle reliquie sarà finita penserò io stesso a farlo richiamare a nuvara